buongiorno mentre osservate la pulitrice in azione allora mi rilascio video di stamattina per chi non l'ha visto anche perché erano le 6 e qualcosa sono comparsi le elaborazioni stanotte alla 1 e 30 e l'invito di disposizione a posta italiana intorno alle 3 3 e mezza ringraziando eugenio cucurulo che il primo che mi ha avvisato ma anche gli altri da salvatore a carmine a brigida a lala nome quello che mi hanno immediatamente avvisato a joe che mi ha avvisato anche lui e anche quelli che hanno avvisato la elena ok le ricariche partono a flussi a partire da domani dopo le 12 e 30 ecco diciamo in alcune case 12 e 30 già sono caricate quindi diciamo dopo mezzogiorno cominciate a controllare i modi per controllare sono tre allora il primo quello più difficile il giorno delle ricariche è il numero verde numero verde perché il giorno delle ricariche è sistematicamente intasato noto che spesso è intasato anche la mattina quando le ricariche non ci sono ancora va beh lì è un problema effettivamente di eccessivo numero di contatti il secondo se avete lo speed potete controllare dal sito governativo www.redio12adinanza.gov.it dove compaiono le ricariche della vostra carta e il punto terzo ovviamente lo sportello atm diciamo che generalmente comunque le ricariche avvengono più o meno sempre le stesse con lo stesso tipo di flussi generalmente almeno questo notato nel tempo chi le riceve una certa ora generalmente le ricevesse sempre intorno a quell'ora ci sono state però differenze capitate per cui non prendetela come una regola domani nel video di domani mi scrivete sotto quando compaiono le vostre ricariche così tutti gli altri sanno un attimo organizzarsi sperando che post italiana e faccia tutto per bene c'è da dire che negli ultimi mesi soprattutto grazie anche una cosa che non c'è il rem che comunque creava ulteriore intasamento post italiana ha lavorato abbastanza bene in in fase di in fase di caricamento delle carte e in fase di partenza dei flussi qualcuno potrebbe riceverla anche sabato mattina la ricarica il pomeriggio no perché forse gli anni chiuso altrimenti si slitta lunedì per i più sfortunati diciamo però chiediamo una cosa una volta che l'inps ha fatto l'elaborazione una volta che ha inviato la disposizione a post italiane è solo una questione di tempo e non di problemi che riguardano la ricarica in sé ve lo dico perché se ci fosse un problema andate dentro in post italiane noi e questi cominciano a dire eh ma non è l'inps sono loro una volta che l'inps ha fatto l'elaborazione e ha mandato la rendicontazione dal 26 la gestione è post italiane lo dico molto perché può succedere era già successo con i rinnovati che hanno dovuto sostituire la carta perché non si sa bene come la carta era ancora attiva ma gliel'hanno assegnato un'altra sono tutte cose che possono capitare diciamo che però generalmente state abbastanza tranquilli che a partire da domani pomeriggio dal primo pomeriggio le ricariche vanno e questa è la cosa che vi deve interessare di più adesso vediamo un attimo anche come agirà il comitato tecnico scientifico che è stato ufficialmente instaurato che ribadisco è comunque un comitato consultivo non ha potere decisionale la cosa buona è che la saraceni è una persona che ha fatto un'analisi da sociologa ha fatto un'analisi serie del reddito non non propagandistica ma seria e per rispondere alla stefi che ieri mi ha scritto è una cosa che anche la saraceni ha messo a luce c'è stata una pessima narrazione e qui bisogna anche dare la colpa ai media stessi ma anche a chi ha presentato il reddito dell'utilità del reddito se si fosse specificato bene e soprattutto se la fase 2 fosse stata gestita seriamente non tutti questi attacchi probabilmente non ci sarebbero stati ma c'è stata una pessima narrazione una pessima presentazione già in fase proprio di che io parlavo di marzo del 2019 poi è seguita una fase 2 che è un disastro di proporzioni innegabili e soprattutto poi vedi che alcuni di questi responsabili vengono addirittura premiati allungandogli il contratto e c'è pure gente che dice che non bisogna buttarli buttar via la loro esperienza sinceramente vorrei capire qual è la loro esperienza non lo so penso che tutti quanti quelli che hanno avuto a che fare con loro se lo stanno chiedendo qual è la loro esperienza e vabbè è inutile discuterci su vediamo quali sono le variazioni ricordatevi che comunque il reddito cambierà non è tanto la fase 1 di cui non state preoccupare ma soprattutto la fase 2 la fase 2 verrà completamente ridisegnata e ricostruita ci sarà appunto anche questa norma per cui se cominciate a lavorare il reddito non decade ma viene sospeso basta che il contratto di lavoro non duri più di sei mesi ed è una norma secondo me utile perché riduce ulteriormente la quantità di scartoffie da presentare ai comuni da presentare all'info da presentare a tizio da presentare a caio se si vuole semplificare queste cose sono la base semplificare ridurre al minimo la necessità di ripresentare le stesse domande niente adesso ragazzi vediamo domani mi farete sapere sotto i video di domani come sono quando compaiono le rine le vostre ricariche in modo e indicativamente in lo sommetto anche la città o la regione in modo che uno possa avere un'idea di come si stanno muovendo i flussi io per oggi penso di aver detto tutto vi saluto forse dopo ci sarà un video sul cinema dipende molto da come sono messo del tempo che ho e per il resto potete ammirare che adesso che si è finito di pulire l'essere peloso che come ha detto qualcuno non è assolutamente preoccupata per i croccantini perché glieli mandano a casaccio ah una cosa la merkel si è rimangiata la questione del lockdown pasquale andate anche qui a vedere c'è il video in cui dice che ha sbagliato la merkel che a uno possa piacere o no ha avuto il fegato di dire ho sbagliato in italia speranza che ha fatto cappellate dieci volte più grosse dieci diecimila volte più grosse di quelle della merche va in televisione e dice che non è ora di fare polemiche e soprattutto soprattutto che il piano vaccinale un patrimonio nazionale a me viene semplicemente totò che dice quello tieniti aperto l'occhio per poter gli ecco ci siamo capiti sulla questione boldrini invece non vi dico niente perché ne parlo perché inutile parlare di quello che ha combinato la boldrini anche perché bene o male questo do ragione al professore è quella che è la boldrini è una che si preoccupa non della sostanza ma della forma e io mi ho sempre detto di fidate delle persone che fanno le paladine di qualcosa non nella sostanza del problema ma nella forma in modo da mostrare far apparire le cose ma in sostanza poi nel privato facendosi obiettivamente i cavolacci suoi le giustificazioni da boldrini sono imbarazzanti meglio sarebbe stato perché ragazzi scusatemi la tiro un attimo lunga su questa ma io ci credo guardate ci credo come credo a babbo natale che non ha trovato un caff aperto per dieci mesi ora o io sono non lo so superman ma penso tutti voi siete superman oppure non c'è non stare in cielo mente era quello che ha detto punto tra l'altro scusatemi la signora che lavora da lodi gli dava uno stipendio del cazzo diciamola tutta gli diamo uno stipendio del cazzo ecco ve l'ho detto la forma e la sostanza la boldrini è forma di sostanza ce n'è poca ciao a tutti